Alta, Anzei, ossia pure per la parola Mancini, Lorenzo Ancelini Maschini, l'operazione di José del Costa Piemonte, Alta, Anzei ossia 5 per Lorenzo Vero Alta, Anzei Alta, Anzei Alta, Anzei Alta, Anzei Ben Cosme e Veri entrano il suo regolino da vivo per il nostro applauso! Veri e Ben Cosme! E poi abbiamo dato un percorso per il nostro applauso! Dai! Dai Gari! Dai Gari! di fronte, la rappresentanza delle Marche, Lorenzo Beroli, salutiamo il podio dei 400 grazie